Ci siamo già incontrati, mi pare. Non mi sembra. E dove ci saremmo visti? A casa tua l'hai dimenticato. A essere più precisi, sono lì in questo istante. Chi sei? A casa tua l'hai dimenticato. Preferisco ricordare le cose a modo vero, non necessariamente come sono avvenuti. Che cosa mi è capitato? Qualcuno è entrato e ci ha ripreso mentre dormivano. Credo che sospetti qualcosa.